Un caro saluto a tutti in vostra compagnia Milan Sampdoria, si gioca, Suso può puntare, ah, vicino a sé Calabria, Calabria la mette in mezzo angolo, bravi, chiede il mani Calabria, rigore, parata di Viviano, Cialanoglu, che fa subito un cambio gioco meraviglioso, Cialanoglu per Suso, che palla ragazzi, Suso, Suso può puntare, lo asseconda Daviduccio, vai Daviduccio, vai Daviduccio, trovi Daviduccio, gol, gol, 109 gol, Ma che azione meravigliosa! Buonaventura, buonaventura, palla dentro per Cialanoglu, Cialanoglu, il tiro, deviato angolo, Cialanoglu, Cialanoglu, tira, 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 Dio mio, tira, traversa, traversa di Cialanoglu, può puntare il Turco 10, scivola Andresilva, Giana passa lo stesso, tiro Viviano para, non gliela servita Andresilva, Cialanoglu dopo che era scivolato, Andresilva, serve Calabria, tira Davide, grande parata di Viviano, enorme parata di Viviano Guagliarella, palla messa in mezzo, paura, è uscita ragazzi, è uscita, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti!